Quando ti accorgi che le risposte che cerchi non sono lì, sul piano materiale, ma tu senti che ci sono, eppure non le vedi, sei al principio del risveglio spirituale. C'è qualcosa che ti porta al di là della materia. Vediamo in che modo la cosa ti riguarda. Un numero crescente di persone sono interessate dal fenomeno chiamato risveglio spirituale. Che cos'è precisamente? Quale definizione si potrebbe dare in modo che possa essere utile per te? Il risveglio spirituale in atto oggi si esprime in molti modi, riconducibili al concepire un'essenza invisibile dietro e al di sopra delle apparenze. Ti rendi conto che le risposte delle versioni ufficiali, quello che hai imparato a scuola, quello che si dice normalmente parlando tra amici, non spiega tutto il senso della vita. Istintivamente senti che c'è qualcosa di più, che c'è un'essenza invisibile. Chi è nella fase di risveglio spirituale scopre nuovi significati nel quotidiano e a seconda del livello di consapevolezza che ha raggiunto, scopre anche nuovi significati nella storia, cioè vede l'evoluzione dell'umanità in una prospettiva molto più ampia. Per chi si risveglia le ragioni sono evidenti. Ma se sono ragioni evidenti, perché non tutti si risvegliano? Perché siamo ancora qui a parlarne? Evidentemente non è una cosa oggettiva per tutti il risveglio spirituale. Se non tutti si risvegliano insieme con chi nota evidenti motivi per risvegliarsi, dipende da fattori individuali, come paura, pregiudizi, timore di apparire ridicoli. In questa sede non mi voglio disperdere analizzando quello che eventualmente potrebbe impedire a una persona di risvegliarsi sul piano spirituale. Quello di cui ti voglio parlare, quello che importa per te, è sapere a che punto sei tu a proposito dell'argomento risveglio spirituale. La domanda che potresti porti è mi sento soddisfatto rispetto a cosa immagino di poter meritare e di poter ottenere? Questa semplice domanda lascia perdere le grandi questioni sui temi spirituali. Chiediti, mi sento soddisfatto rispetto a cosa immagino di poter meritare e di poter ottenere? Il fatto che tu immagini dimostra che puoi creare a livello di pensiero e che il tuo pensiero non è una conseguenza meccanica come il pensiero di un topo da laboratorio osservato in un labirinto. Osservare i topi per dedurre chi sono gli esseri umani è alla base di molte considerazioni rispettabili e scientifiche. Ma vedi, i topi nei labirinti hanno un modo di ragionare che non rispecchia la tua grandiosità perché il tuo pensiero, la tua immaginazione dimostra che tu vai al di là degli stimoli che ti vengono dati. Tu sei capace di creare. Infatti tu sei un essere umano e puoi creare dal nulla. Esatto, ho detto proprio questo, puoi creare dal nulla. Come minimo dal nulla crei delle idee, crei qualche cosa che non esisteva prima, non hai ricevuto uno stimolo, non è una tua reazione. Tu sei capace di creare delle idee di punto in bianco. Domandati. Quanto sono soddisfatto dei miei rapporti interpersonali? Che cosa mi piace? Che cosa vorrei migliorare? Qualsiasi risposta tu dia a queste tre domande è il principio della tua uscita dal modo di pensare lineare, meccanico, appiattito, come pretende una certa scienza che si illude di conoscere l'essere umano perché fa dei test su dei topi? Qualsiasi risposta tu dia è il principio della tua uscita che ti consente di avvicinarti al risveglio spirituale, qualsiasi cosa tu intenda con queste due parole? Fatti queste tre semplici domande. Quanto sono soddisfatto dei miei rapporti interpersonali? Che cosa mi piace? Che cosa vorrei migliorare? Vivere nella materia ti porta a uscirne. Prima o poi sarai d'accordo con questa affermazione. E quando esci dalla materia ti trovi nel risveglio spirituale. Potresti prepararti, oppure potresti restare indifferente a questo argomento. Non importa, non sono qui per convincerti. Prima o poi sarai d'accordo sul fatto che il risveglio spirituale è qualcosa che ti riguarda. Se cominci a porti quelle tre domande che ti ho suggerito, innalzi la qualità della tua vita. Perché una delle prime conseguenze del risveglio spirituale è capire più a fondo e con maggiore soddisfazione il senso della tua esistenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.